Se vi state chiedendo perché sono rosso, la risposta è molto semplice, queste partite le giochiamo anche noi, diamo il nostro apporto, il nostro sostegno e soprattutto le nostre fatiche poi si sentono a fine gara. Serviva una prestazione enorme, enorme di tutti gli effettivi e poteva anche non bastare, perché contro squadre come il City può anche non bastare, assolutamente. Parliamo di una squadra di un altro pianeta. Per capire realmente il valore di questa squadra la devi vivere proprio sulla tua pelle. Oggi no, vedendo dal primo all'ultimo minuto giocare l'Inter, la mia squadra, la squadra che tifo contro il City, capisco quanto realmente so forte. Il City è veramente una squadra mostruosa. Negli 11 effettivi titolari che scendono in campo, nelle riserve, nel collettivo, questa è una squadra che non perde mai la palla. Non la perde mai la palla. Quindi vengo già al nodo cruciale, a quelle che diranno che l'Inter ha parcheggiato il bus e poi magari in ripartenza. Come l'affronti il City? La vuoi affrontare sul palleggio? Sul palleggio non c'è gara con nessuno, non c'è gara con nessuno e in alcun modo potrai primeggiare. Per cui devi in qualche modo contenere. Ecco, sono orgoglioso della prova dell'Inter proprio perché è riuscita per gran parte della gara, finché c'è stata anche benzina da parte dei primi due attaccanti che sono stati i primi a fare un grande lavoro in mezzo al campo. Finché c'è quella, riesci in qualche modo a limitare i danni e poi perché no avere anche le tue occasioni. L'Inter, se vogliamo, soprattutto nei primi venti minuti, ha avuto tante potenziali occasioni. Nella ripresa, se pensiamo a quella di Darmian, a quella di Mkhitaryan, ha avuto il suo diritto. Lautaro, tante situazioni che si potevano anche, se vogliamo, sfruttare in maniera diversa. Non è facile, non è facile contro un avversario che ti aggredisce, ti aggredisce sempre, continuamente. Abbiamo visto come l'Inter ci abbia anche provato in alcuni infrangenti a non buttare la palla, a tenerla, anche facendomi venire il magone parecchie volte e abbiamo rischiato, soprattutto in una circostanza con bastoni, che non ricordo a chi l'abbia regalata in questo momento. Ma grande prova di solidità, grande prova mentale, ribadisco contro un avversario che è più forte. Solo perché pareggiamo all'Etihad sono conscio e sono consapevole del fatto che il City dimostra di essere veramente insieme al Real Madrid. Real Madrid è più per, secondo me, questioni individuali, ma il City è proprio la squadra completa. Credo che oggi sia, se non la squadra più forte, sicuramente la squadra insieme al Real più temibile sul piano del gioco, anche superiore al Real, secondo il mio modesto parere. Perché è allenata divinamente da un allenatore che mastica e digerisce ed espelle calcio da mattina a sera. Quindi il piano tattico dell'Inter non poteva essere diversamente. Per 60-70 minuti l'Inter mi è assolutamente piaciuto, perché abbiamo, come dicevo prima, abbiamo contenuto abbastanza bene il City, che è vero, anche nel primo tempo poi ha avuto un paio di circostanze dove comunque poteva far male, ma anche noi, ripeto, anche l'Inter ha avuto tante potenziali occasioni che magari poteva sfruttare meglio. Alla lunga, devo dire la verità, negli ultimi minuti poi non vedevamo l'ora che finisse la gara. Non neghiamolo, non neghiamolo. Hanno avuto praticamente tre rigori in movimento, se penso a quello di Foden. Su assist di Gundogan era proprio un rigore in movimento, era proprio nell'aria piccola. Stessa cosa su un colpo di testa di Gundogan, stessa cosa anche nel finale, sempre Gundogan, se non vado errato, proprio al gong. Comunque, cioè, è eretto, è eretto, anche in maniera fortunosa, e quindi questi sono bei segnali, questi sono bei segnali, segnali di forza, alcuni giocatori molto bene. A me è piaciuto per esempio Taremi, Taremi secondo me ha fatto un lavoro enorme in entrambe le fasi, soprattutto nella fase di non possesso, dove, ripeto, ha dato una grandissima mano senza l'ausilio degli attaccanti. Non avremmo retto, assolutamente no, a me è piaciuto Barella in mezzo al campo, ragazzi miei. Ha dimostrato di saperci stare a questi livelli. Forse anche oggi, forse, dico forse, mi aspettavo qualcosa in più da Ciala. Non male in alcune giocate anche Zielinski, acerbi mostruoso, acerbi mostruoso, nonostante l'età, nonostante tutta, ancora acerbi mostruoso e ancora una volta l'unico giocatore che ho temuto di meno quest'oggi è stato Haaland. Si parla sempre del City Halland che quanti gol ha già fatto, ha già fatto una vagonata di gol, eppure invece bene, molto molto bene. Anche Bissek, anche Bissek che poteva essere no, sta mossa di Inzaghi, poteva essere una mossa un po' no, particolare, eppure invece bene, così come Sommer che si è fatto trovare pronto quando doveva. Sì, è vero, molti tiri non erano neanche defilati, ma mai una sbavatura, anzi sempre centrato, quindi molto 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 bene. Ripeto, dobbiamo essere consci che il City è una squadra di un altro livello. Ecco, dobbiamo ragionare su questo, se ragioniamo su questo, per forza di cosa dobbiamo essere contenti di aver stappato un pari all'Itiad contro una squadra che non perdeva, infatti non ha perso neanche oggi, non perdeva in questo stadio, non perde da sei anni, da oltre sei anni, ragazzi. Sono numeri clamorosi. Eppure abbiamo avuto le nostre chance in alcune circostanze, dove potevamo addirittura fargli lo sgambetto, però sul piano degli episodi hanno tirato forse il doppio. In Porta, se ho visto le statistiche, 5 volte l'ora e 4 noi. Tiri totali 22 loro, 13 noi. Cioè, non è anche l'Inter, quando ha potuto, se arrivi a calciare 13 volte, vuol dire che ti sei affacciato. Ecco, quindi, ribadisco, la prova dell'Inter è stata buona, è stata eccellente. L'Inter è stata eccellente, ripeto, tanto sacrificio, tanto orgoglio, tanta compattezza, non nei 90, ma per gran parte della gara, secondo me, molto, molto, molto bene. Per cui, queste prove ti danno, secondo me, ti danno consapevolezza, eh. Ti danno consapevolezza a questi... Poi eravamo fuori casa, ragazzi, contro uno stadio che spingeva. Quelli là, dalla panchina, mettono Gundogan, Foden, Doku. Io non lo so, ragazzi, i miei. C'avevano Walker, Stones. Cioè, ci hanno... Sono uno più forte dell'altro, ragazzi, individualmente, collettivamente. Sotto qualsiasi aspetto. Per cui non potevo, e non potevo augurarmi di meglio, ragazzi. Assolutamente, sono soddisfatto. Sono assolutamente, assolutamente soddisfatto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Se volete commentate, raccate, iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio. Ciao. Neschio. Ciao.